Andrea, che cos'è la voce di uno scrittore? Secondo me la voce è quel momento in cui tu riesci a strutturare un'emozione. Cioè tu riesci a rendere l'impulso emotivo che vivi per un ricordo, per una esperienza sensoriale, metterla su carta attraverso una struttura, ok? Questa struttura è fatta di grammatica, di sintassi, di monteggiatura, di qualsiasi cosa, di ciò che ti appartiene nel tuo stile. E' un mix di cose la voce, vi faccio un esempio, vi leggo, ho fatto una prova divertentissima, questa autrice, Alba De Cespedes, prima e dopo, è un libro storico, è molto bello e lo consiglio, vi leggo due righe, come descrive una sensazione di solitudine, ascoltatela bene. D'improvviso mi resi conto che c'erano voci nella mia vita più che presenze, e che ormai sarei rimasta priva di quel calore che sentiamo soltanto vivendo con qualcuno, e che paghiamo con il fastidio della convivenza. Pensate quante cose non dice, dicendo queste due righe, quanto parla di solitudine e di tutta la storia del mondo e delle relazioni. Ho chiesto la stessa cosa a chat GTP, per vedere la voce, questa è la voce di questa autrice, è una voce che tu puoi riconoscere, perché le voci degli autori poi risuonano nei lettori, cioè muovono le campanelle, per cui noi riusciamo ad ascoltarli e a riconoscerli. Ho chiesto questa cosa a chat GTP, descrivi brevemente la donna sola e sconfortata, che però riuscita di rifugiarsi in una frustrazione della vita di coppia. Questa donna solitaria e sconfortata si presenta come un'anima indipendente e resiliente, nonostante l'avversità della vita e la mancanza di compagnia romantica, è riuscita di soccopare alla frustrazione tipica di una vita di coppia convenzionale. La sua solitudine non è un peso, ma piuttosto un'opportunità per esplorare la propria individualità e crescere personalmente, pur avendo sperimentato un dispiacere, trova la forza di abbracciare la sua vita senza il rifugio nelle dinamiche di coppia, riferendo a forgiare il proprio cammino con determinazione e coraggio. La differenza qual è? È che le voci appartengono a autori, a scrittori, a narratori che esistono, sono la somma dei ricordi. Chat GTP non esiste, esiste perché siamo noi a volerla e a desiderarla, la costruiamo noi dando gli informazioni. Quindi io credo che la voce di un autore risieda esattamente nella capacità di trasformare su carta, con le parole, con la struttura, gli impulsi e motivi che dire.